Ma fate proprio bene questa settimana al paese, eh? Ho rivisto i vecchi amici, amici d'infanzia, i parenti. E qua com'è andata? Novità? No, nessuna novità, soltanto che è piovuto tutta la settimana. Ah, sì. A voi com'è andato il tempo? È piovuto solo due volte in una settimana. Meno male. La prima volta per tre giorni e la seconda volta per quattro giorni.